ci prepariamo per la discesa della mandria di davis perotto allora il prossimo anno ha trovato la soluzione Posso andare dall'altra parte? No, chiamo tutti i compagni di mio figlio. Ma, minorenni? Tutti i minorenni, pareci pure a me. Ma a me? Siete qui già in reddita io con uno. Meno male che c'è Diego che mi taglia la carne perché io sono invalido. Sei sempre, mi avete spettato molto quando si sveglia. Silvano, mi hanno penitato le lunghe, è come questa malattia perché sennò ti taglio un pedale. E salò. Grazie Diego. Prego, prego, lei bus. Si parte per radunare la mandria. Abbiamo fatto un buon pranzetto, siamo pronti per andare a radunare le vacche. Siamo alle grange di un solo, adesso iniziamo a scendere pian pianino. Radunata lavandria. Abbiamo fatto un po' da chi è mi piace. Passate. Iniziamo a spazio. Qual è iniziamo? Si iniziamo a fare un'altra parte. Ho fatto un po' di più di più. Avevo un po' di più. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.